La barca italiana si conta sulla punta delle dita qui a Kiel, voi siete tra questi, insomma come vi sentite seguiti dall'Italia, le tue sensazioni su questo? Ma guarda, io devo dire intanto ovviamente ringraziamo sempre gli sponsor che ci danno la possibilità di fare uno sport che tu sai benissimo, non è semplice coinvolgere partner perché non c'è questa grande risonanza mediatica. Siamo felici di essere qua grazie a Città di Siracusa, al Comune di Siracusa che ci ha agevolato, ad altri sponsor, siamo abbastanza seguiti per quanto riguarda la Sicilia, un po' meno seguiti forse dalle istituzioni, stranamente forse veniamo ignorati quasi. Oggi ho letto un articolo su Feder Vela, che è la federazione italiana Vela, che dovrebbe essere il nostro primo sponsor, visto che deteniamo un titolo di campioni del mondo, Corinzia, e in un articolo cita Anfante Rible come se dovesse andare a difendere il titolo di campione del mondo che non ha. Love Noise che l'anno scorso non ha vinto il campionato del mondo ed è qui e viene citata come se fosse la squadra vincente da battere, giustamente perché è una delle squadre migliori che abbiamo, però cita squadre tedesche, cita di tutto e di più, tranne i campioni del mondo Corinzia che sono italiani e South Kensington che non viene assolutamente citato. Ovviamente poi tutte le federazioni si ricordano di tutte le imbarcazioni, quanto c'è da pagare, la tessera, quando c'è da pagare la tassa di pubblicità. Tu sai benissimo, noi siamo martellati continuamente da tutti gli oboli che ci chiedono, però stranamente quando c'è da pubblicizzare o da dar merito ad una barca italiana che si presenta, come dicevi tu, in un ambiente che è straordinario, che è Kiel, nessuno ci considera e questo, devo dire, dà molto fastidio, più di perdere una regata.